La nostra Carmen o Enzo Paolo, se sono già in... Eccola, Carmen, Carmen, buonasera, sono Loretta Goggi dal Bello della... Oddio, Enzo Paolo sta poco bene? Enzo Paolo, mi senti? Su, Enzino, su, Paolino, su, Turchino, abbiamo ospiti, uffa... Ciao Carmen, sono Loretta, come stai? Come stai, Carmen? Wow, ciao Loretta, bene, e tu? Benissimo, mi dispiace di suddarvi nella vostra intimità piuttosto Figurati, la nostra telecamera da letto l'hanno vista, wow, milioni di telespettatori Del resto, da quando ho avuto un grande successo alle televisioni private Tutta la mia vita privata è diventata wow, pubblica Carmen, tu sei il sex symbol degli anni Ottanta Condividi quest'opinione, ti senti così? Ma no, secondo me la cosa è stata tutta un po' gonfiata Però, almeno con le mie apparizioni televisive, ho movimentato le serate degli italiani Erano così piatte Beh, senti Carmen, ma tu, come donna, chi sei in realtà? La vera... Questo dovresti chiederlo a Enzo Paolo Lui è così carino con me Dice sempre che io ho un grande avvenire davanti a me Anzi, due E che da quando vive con un artista come me al suo fianco Lui può dormire fra due guanciali Senti Carmen, tu hai tutto in questo momento L'amore, il lavoro, il successo, il danaro C'è qualcosa che desideri ancora? Qualcosa che non hai? Wow, vorrei tanto potermi vedere la punta delle scarpe senza piegarmi Wow Non è d'accordo Enzo Paolo Grazie a Carmen Russo E grazie a Enzo Paolo Turcu Naturalmente tutti e due imitati da me E spero che ne sorridano Che ne sorridano Allora, torniamo alla domanda per i nostri concorrenti Riccardo e Maria Allora